Questo podcast è stato registrato nel pieno dell'emergenza Covid-19. Mai, come in questi frangenti, il process mining è diventato un tema di attualità. Che cosa sta succedendo ai processi aziendali in regime di smart working? Non è solo un tema di calo di produttività, già calcolabile tramite i KPI che tutte le aziende hanno creato per misurare l'output dei processi, ma è anche un tema di come si sono modificati i processi. Variazioni di percorrenza dei processi stessi, cambiamento di flussi di comunicazione tra le persone, variazioni di gestione delle code di lavorazione. Il process mining è la tecnologia cardine per avere un insight completo dei processi aziendali, anche in logica comparativa verso una situazione ritenuta ottimale o di riferimento, ad esempio l'assetto anticrisi. Con il process mining è possibile vedere graficamente il flow di processo in tutte le sue varianti di percorrenza e misurare i tempi di esecuzione e attesa, i ricicli e le performance. Partiamo dall'inizio. Che cos'è il process mining? È una tecnologia di business intelligence in grado di ingerire le tracce lasciate dai processi sui sistemi informativi e interpretarle ricostruendo il processo. Ad esempio un processo di acquisto su un sistema IRP lascia tracce di eventi come la sottoscrizione di un contratto, la creazione e poi rilascio di una richiesta d'acquisto, la creazione di un ordine e la sua approvazione, un'entrata a merci, la ricezione di una fattura, la sua registrazione, lo che è il pagamento e poi il pagamento stesso. Gli eventi di un unico processo possono anche abbracciare più sistemi informativi, ad esempio un sito web o un IRP sottostante, sotto forma di log testuali o di tabelle transazionali o altri formati. È vero, parti del processo possono essere non tracciate, tuttavia i diversi strumenti si stanno attrezzando anche per catturare porzioni di processo gestite con strumenti di produttività individuale. I requisiti dato per alimentare uno strumento di process mining sono davvero minimali. Basta avere un record per ogni evento contenente un identificativo dell'istanza di processo, il nome dell'evento, ad esempio rilascio di un ordine, una data ora di inizio evento e opzionalmente una data di fine evento e sempre opzionalmente il team risorsa che ha gestito l'evento. Tutti i dati aggiuntivi sono comunque ingeribili e utilizzabili come filtri. Gli output degli strumenti di process mining sono molteplici. In primis una vista grafica in cui si mostra il processo nella sua complessità ed è possibile selezionare a livello di dettaglio nascondendo i percorsi e le attività meno frequenti e meno impattanti. La vista include per ogni attività e arco le frequenze numeriche e anche i tempi di attesa e di percorrenza. La possibilità di esaminare e quantificare le diverse varianti di percorrenza evidenziando le situazioni virtuose o viziose. L'estrazione automatica degli epipath e i percorsi ottimali o i più frequenti. La comparazione tra più varianti e il disegno automatico del flusso in notazioni standard come il bpmn o equivalenti al fine di generare o esportare documentazioni ufficiali ad esempio su strumenti come ARIS. La visualizzazione dei flussi tra team e operatori e del coinvolgimento dei team nelle diverse attività di processo con grafi social. Le dashboard di monitoraggio del processo con grafi, flussi, QPI e gauge indicator. Alcuni strumenti hanno anche la capacità di realizzare root cause analysis e simulazioni di scenario, simulazioni what if. Quali sono quindi i principali utilizzi del process mining? Beh, in primis la process discovery, la generazione dei diagrammi e la rilevazione delle varianti di percorrenza. La process analysis, la misurazione dei volumi e dei punti critici dei colli di bottiglia, degli trend storici. Il golden path o epipath, la determinazione delle varianti di percorrenza ottimali o di quelle pericolose. Il process benchmarking, la comparazione di esecuzione di processo tra team differenti o in location differenti o in momenti storici differenti o anche su categorie di prodotti e servizi differenti. Conformance and root cause analysis, ovvero l'aderenza al processo disegnato e la spiegazione dei fattori che determinano il maggior numero di scostamenti. L'anomaly detection, quindi il monitoraggio nel continuo di QPI di efficienza e devianza. L'identificazione di casi anomali e critici nel continuo, anche mentre stanno avvenendo. La what if o simulazione, quindi la previsione dell'impatto di cambiamenti, ad esempio con automazione RPA, variazione di risorse, variazione di SLA. L'evidenziazione di necessità di process engineering per sanare situazioni di inefficienza o adattarsi a variazioni di requisiti. Il tutto si traduce in vantaggi di maggior consapevolezza e controllo, di efficienza ed efficacia, di rispetto degli SLA e di ottimizzazione. In Italia e in Europa si è iniziato ad utilizzare il process mining per i processi più tipici, quali ciclo passivo, ciclo attivo, logistica, e l'utilizzo si sta man mano allargando ad altri processi, quali le operations, sia in ambito produttivo che in ambiti servizi, il marketing e le vendite, il provisioning di servizi e i processi di staff, ad esempio le human resources. Gartner, nella sua Market Guise for Process Mining, ma anche altri analisti, prevedono un raddoppio ogni due anni dell'utilizzo nel prossimo quinquennio. Fin qui abbiamo visto come il process mining possa essere utilizzato sia come strumento di analisi e monitoraggio in molteplici settori, sia come strumento pratico di what if e negli assessment per la definizione di roadmap di automazione, ad esempio tramite robotic process automation. Ma ritorniamo al tema con cui abbiamo aperto questo articolo. Come può il process mining essere d'aiuto in questi frangenti di crisi mondiale dovuta al Covid-19? Il process mining può aiutare in molti modi, innanzitutto creando veloci analisi comparative delle variazioni sui processi pre-crisi versus durante la crisi, evidenziando cali di performance, foramenti di SLA, andando a esaminare quali categorie di prodotto o servizio e quali serventi, team, location, settori aziendali causano il degrado di performance. E lo stesso meccanismo potrà abilitare nel post-crisi un attento monitoraggio del percorso di ritorno alla normalità, della sua rapidità e delle isteresi, ossia dei rallentamenti in alcuni ambiti attività. Non solo, con il process mining è anche possibile monitorare i cicli amministrativi, evidenziando situazioni di rischio negli incassi, situazioni di potenzialità di esdittamenti motivati dei pagamenti ai fornitori, ad esempio in caso di riterrate consegne. Ancora più di impatto è la possibilità di monitorare l'intera supply chain, evidenziando fornitori a rischio, ad esempio in base alla diffusione del Covid-19 presso i loro plan produttivi, o interi comparti a rischio, ad esempio una materia prima fortemente impermiata su una filiera produttiva bloccata dal Covid-19, e suggerendo fornitori e zone di approvvigionamento alternative, non ancora o non più toccate dalla pandemia. Allo stesso modo la soluzione può supportare nella scelta di priorità delle forniture, a monte della filiera, nella logica di non bloccare clienti critici per la filiera, laddove non si riescano ad accontentare tutti. Alcuni vendor hanno già reso pubblici kit di accelerazione su diversi casi d'uso collegati al Covid-19. Vi invitiamo a contattarci per conoscere l'offering di BIP Consulting sul Process Mining, per curiosità, domande e necessità, cliccando sul link che trovate nella pagina davanti a voi dove avete scaricato questo podcast. Nella prossima uscita dedicata al Process Mining racconteremo della tipica progettualità, chiedendo attività e durata, attori coinvolti e approcci di Proof of Concept e di ScaleUp.